Ciao a tutti da SRF CAD, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di stampanti 3D. Questo video è rivolto sia a chi è le prime armi e sia a chi è in questo campo già da un po'. Inoltre lascerò dei link diretti in descrizione per poter prendere la vostra prima stampante 3D. Siamo pronti? Bene, iniziamo! Gli argomenti che oggi tratterò sulla stampante 3D saranno perché averne una, come funziona, quali sono le stampanti 3D in commercio, come sono composte e come lavorano. Perché avere una stampante 3D? Ho un'idea, la creo e la stampo. La stampante 3D non ha limiti. In che settore viene utilizzata? Nel settore obistico, per stampare un file preso da internet come un modello di un dinosauro per la tua nipotina. Per realizzare un pezzo in CAD che è fuori produzione senza dover usare e avere un tornio. Nel settore orafo, per la creazione di anelli, bracciali e orecchini senza dover essere costretti a passare per il controstampo in gomma. Per il settore odonto tecnico, viene utilizzata per la creazione di modelli derivanti da scansione introrale, per provvisori, bite, strutture e anche dime chirurgiche. Mentre nel settore medico, viene utilizzata per la produzione di tutori e protesi. Come funziona una stampante 3D? Le tecnologie di stampa per addizione lavorano sovrapponendo diversi strati, detti anche layers. Si parte dando una superficie di adesione al piano e poi in progressione verrà integrato un layer dopo l'altro fino ad ottenere il solido. In questa slide mostro in maniera molto superficiale il comportamento. CAD, genero il mio solido e dopodiché ho un'antiprima che viene svolta da questo slicer e mi mostra al 20%, al 60% e al 100% come verrà fuori il mio solido. Rimanendo in tema di layer, un altro fattore determinante è quella di decidere l'altezza dello strato. In base a questa altezza si otterrà una determinata risoluzione. Uno degli esempi che riporto è quella dei tre classici tipi di risoluzione che sono 100 micron, 50 micron e 20 micron. Oltre alla risoluzione comunque c'è anche un altro aspetto che sarebbe quello del tempo. Basta notare che dai 100 ai 20 micron, cos'è che si nota? C'è un incremento di fette, detto anche slice. Maggiori saranno queste fette, maggiore sarà la mia risoluzione, ma anche maggiore sarà il mio tempo. Mentre se noi andiamo a controllare, andiamo a vedere il bicchiere a 100 micron, ho molte meno fette, per cui il tempo sarà molto ridotto e avrò una determinata qualità. Perciò quello che utilizzo e consiglio sono i 50 micron, il giusto compromesso tra qualità e tempo. I passaggi sono tre. Passo per il CAD, mi vado a generare il mio solido, a meno che non sia tramite file esterno. L'importante è che sia o STL o BGI. Nel caso forse esterno, il consiglio che do è quello di dargli un piccolo controllo, andare ad analizzarlo. Io utilizzo un software gratuito, che in questo caso è MeshMixer, e veramente in neanche un minuto vado ad analizzarlo e capisco se ha degli errori. Controllato è il mio solido OK, passo per lo slicer, che è il software dedicato per la stampante, che trasforma l'STL e lo rende masticabile per eseguire la stampa. Cosa viene fatto in questo passaggio? Viene eseguito il nesting e successivamente lo slicing. Tradotto sarebbe nesting, sarebbe il posizionamento, messa dei supporti. E successivamente scelta del materiale e come ultimo passaggio viene eseguito il salvataggio, detto anche slicing. Fatto questo passaggio, andiamo in CAM e siamo pronti a importare il file generato dallo slice all'interno della stampante. Quali sono le stampanti 3D in commercio? Allora ne esistono di tre categorie, ci sono quella a filo, quella a resina liquida e quella a polvere. Allora, quelle a filo sono conosciute come FDM, mentre a resina liquida ci sono le SLA, DLP e LCD, mentre quelle a polvere sono le SLS e le SLM. Colgo l'occasione per aprire una piccola parentesi indicando che non sono in alcun modo sponsorizzato dalle case produttrici delle macchine. In questo caso, quelle a filo e quelle a resina liquida sono due macchine che utilizzo io nella mia routine, nella mia quotidianità e mi trovo veramente bene, mentre le macchine SLS e SLM che vanno a polvere sono macchine che hanno un costo importante e per questo le troviamo per lo più in grosse aziende. Iniziamo con le FDM o le FFF, tradotto Fused Deposition Modeling o Fused Filament Fabrication. Praticamente cos'è che accade? Fonde un filo. In questo caso, di fronte a noi, in questa slide abbiamo Nenicubic I3 Mega S, una macchina che utilizzo nella quotidianità, una macchina veramente interessante. È open source, cioè è aperta, non ho alcun tipo di vincolo con una casa, ma posso stampare più tipologie di fili. È una macchina molto semplice sia da assemblare che da utilizzare. È resistente. E in più, in questo caso, valore aggiunto che ha, ho un piano di stampa ampio, che si aggira intorno ai 20 cm, 21 cm, sia ai lati che in altezza, ed è riscaldato. E come temperatura di fusione massima arriva ai 260 gradi, perciò ho la possibilità di avere un'ampia scelta di filamento. Lascerò il link diretto in descrizione per la macchina. Vediamo ora la sua composizione. Cercherò di essere abbastanza superficiale, giusto per render l'idea. Preferisco riprenderlo successivamente con un tutorial dedicato. In sostanza, ho una bobina con del filamento, ho un estrusore che in questo momento ho cerchiato perché posto lateralmente al compito di spostare il filo a una determinata velocità, e farlo entrare all'interno dell'hotend, che praticamente è la zona nella quale il filamento da stato solido passa a stato liquido plastico per poi fuoriuscire dal nostro ugello o nozzle. Nella figura centrale ho rimosso il case, per farvi vedere come è composto. Una cosa che manca è la ventola, che ha due funzioni. Una, di andare a dissipare il calore che si viene a formare al suo interno. E l'altra, invece, va a soffiare vicino al nozzle, in maniera tale da raffreddare il filamento durante le fasi di stesura. In questa slide si vede bene l'estrusore della macchina, quello che avevo cerchiato precedentemente. E la differenza, ne approfitto anche per dirvi, perché può essere che prendo una macchina e ho l'estrusore collegato all'hotend nello stesso carrello. In questo caso, se un unico corpo si chiama Direct, mentre la macchina che io utilizzo, estrusore e hotend sono separati, si chiama Bowden. La stampante è di tipologia cartesiana, con cinematica sequenziale in tre assi, X, Y e Z. Ha dei carrelli, ha dei motori stepper, detti anche passo passo, ha delle cinghie e ha dei sensori di fine corsa. Come funziona? Allora, la prima cosa che è la più importante è andare a eseguire un check della stampante. Controllo dei vari componenti della macchina e il loro status e la scelta del filamento. In questo check verrà approfondito successivamente, sempre con un tutorial dedicato. Dopodiché, cos'è che si fa? Si può fare anche prima o dopo. Comunque si passa per lo slicer, si fa il famoso posizionamento o nesting, si va a scegliere il materiale e si va a salvare. Fatto questo, si genera il nostro slicing. In questo caso, la macchina che utilizzo, il trasferimento, avviene dal computer tramite una memory card che viene già data in dotazione. E ci si sposta nella macchina, nella nostra stampante. Si va a selezionare il nostro file da stampare e si avvia. Una volta che il piano di stampa e l'hotend arrivano alla temperatura selezionata, la stampante inizierà il suo lavoro. Inizia a stendere i suoi primi strati e inizia ad avanzare. In questo caso, l'estrusore che vi ho spiegato spinge il filamento nell'hotend e lo fa fuoriuscire dal nostro nozzle o ugello. Oltre ad avervi spiegato i passaggi, avevo piacere di mostrarvi un'anteprima, che oltre a essere la mia anteprima, è anche l'anteprima stessa offerta dallo slicer che utilizzo, che cura. Ho importato il mio cubo all'interno, che oltretutto il cubo è uno strumento per poter tarare i nostri filamenti. Ho selezionato il mio filamento, ho impostato i vari parametri che mi servivano. E dopodiché mi dà la possibilità di vedere questa anteprima, che è la stessa che comunque vedrei durante la fase di stampa realmente. L'aggiunta che ho fatto con la prima stesura, ecco ho dato una superficie ad adesione un po' più ampia utilizzando questo brim. Successivamente l'ugello inizierà a percorrere i vari tracciati. Si vede anche qua l'ugello in trasparenza sta andando a chiudere questo layer, finché non arriva su al 100% e otteniamo il nostro solido. Una cosa molto importante è che la qualità è determinata dalla scelta dell'altezza dello strato, del filamento, dalla taratura e dal diametro dell'ugello o nozzle. Concluso il processo di stampa, attendiamo che il piano di stampa si raffreddi e arrivi a temperatura ambiente per poter procedere al distacco del pezzo e procedere col post stampa alla rifinitura tramite l'utilizzo di lime o carta vetrata. Se per caso ho dei supporti e il filamento è idrosolubile, posso eliminarli con l'utilizzo dell'acqua. I tipi di filamento che ci sono in commercio sono di vario colore, tipologia e resistenza. Principalmente sono TPU, ABS, PET e PLA. Quello più semplice da usare ed eco-friendly è il PLA. È un polimero derivato dall'amido di mais o della patata ed è biodegradabile. Iniziamo a parlare ora di stampanti a resina liquida. Si suddividono in tre tipologie, le SLA, le LCD e le DLP. Oltre a vederle dopo singolarmente andremo anche a fare qualche confronto. In questo caso la macchina che abbiamo qua davanti è una stampante LCD Anycubic Mono 4K che utilizzo. È una stampante sempre open source, cioè che posso utilizzarlo con qualsiasi liquido e aperta. Anche lo slicer che lavora insieme in allegato è gratuito. È una macchina che rimane sempre piccola e compatta ma ha un ampio spazio per poter inserire modelli. In questo caso di altezza si aggira ai 16,5 cm con una lunghezza che va dai 14 cm di lato lungo e 8 cm di lato corto. Oltre a questo ha un basso costo di manutenzione ed è anche semplice da effettuare. Lascerò il link diretto in descrizione per la stampante. Vediamo ora la sua composizione. Di primo impatto già notiamo che ha meno componenti rispetto alla FDM ed è composto da un piano di stampa nel quale dopo si andrà a attaccare il pezzo. In questo caso abbiamo un pezzo già stampato, ha una vaschetta nella quale si inserisce la resina al suo interno con una pellicola di protezione che fa da protezione tra schermo LCD e resina liquida. Inoltre queste resine qua sono soggette a indurimento causate dalla luce UV, allora si pone un coperchio dedicato sopra. Lo spostamento in questo caso della macchina avviene solo in asse verticale, cioè in asse Z. Vi spiego le proprietà chimiche della resina liquida. La reazione all'esposizione alla luce è dovuta dalla presenza del fotopolimero. La sua composizione è costituita da una miscela di monomeri e oligomeri che permettono di dare specifiche proprietà fisiche al materiale con l'aggiunta di fotoiniziatori. Con quest'ultimi permette di innescare la reazione chimica se sottoposti a luce UV, indurendosi. I fattori determinanti per il fotoindurimento sono la lunghezza d'onda della nostra luce, la potenza, il tempo d'esposizione, l'umidità e la temperatura dell'ambiente circostante nel quale noi lavoriamo. La differenza tra SLA, LCD e DLP. Allora la SLA in questo caso è una stereolitografica, cioè il raggio laser indurisce in maniera selettiva la resina punto per punto tramite l'utilizzo del galvanometro. Detta un po' più semplificata cos'è che succede? Il raggio laser viene proiettato in questo galvanometro che è provvisto di specchi e tramite delle coordinate che noi abbiamo dato precedentemente tramite lo slicer va a creare questo percorso con il punto. Mentre la DLP ha un proiettore che proietta la luce sull'intero strato per polimerizzarlo tutto in una volta, solitamente posto al centro, su altre macchine e anche posto lateralmente con un relativo specchio. Mentre la LCD ha la stessa funzione della DLP, cioè che proietta la luce sull'intero strato per polimerizzarlo tutto in un'unica volta, ma viene utilizzato uno schermo LCD. La differenza che c'è tra DLP e LCD sostanzialmente è quella di se ho un pezzo per dire devo stamparlo al centro, con la DLP so che avrò un determinato risultato. Mentre se andrò in periferia avrò la tendenza di perdere un po' di risoluzione. Mentre con la LCD sia che sia posto al centro sia che sia posto in periferia avrò la stessa identica risoluzione. Quale scegliere? Allora, chiaramente dipende dalle esigenze che ha l'utilizzatore in termini di precisione, velocità e budget. La stampante SLA è ideale per chi stampa oggetti estremamente dettagliati e complessi. Mentre le stampanti DLP e LCD la definizione è buona, anche molto buona, ma il punto forte è la sua velocità. Inoltre ha una manutenzione con un costo inferiore. Le stampanti 3D basate su LCD sono generalmente più convenienti rispetto alle stampanti 3D SLA e DLP. Come vi dicevo prima, parlavamo anche di un confronto tra macchine, in questo caso tra SLA e DLP-LCD, anche se sarebbe più corretto LCD. Vi mostro lo stesso modello singolo. In questo caso l'Anycubic ci metterebbe indicativamente 27 minuti a 50 micron, mentre una stampante generica SLA, sempre stampata a 50 micron, ci metterebbe 1 ora e 45. Come vi dicevo la velocità dell'LCD è veramente imbattibile, perché io con questo modello che ci mettevo 27 minuti, ne metto nello stesso piano, questo qua è il piano di stampa dell'Anycubic Mono, vediamo che ci stanno 6 modellini, ci mette sempre 27 minuti. Mentre la SLA in questo caso tenderebbe a aumentare il tempo, da 1 ora e 45 mi passa a 3 ore e mezza. Parliamo in termini di qualità. Chiaramente l'immagine tra SLA, DLP e LCD si vede nettamente che la SLA ha un punto a favore. Perché questo? Perché la SLA ha questo famoso laser con questo galvanometro che va a creare col punto un percorso, dando l'immagine più nitida. Mentre le DLP e LCD lavorano su dei quadrati, su dei pixel. Si può migliorare la risoluzione con la DLP e LCD? Assolutamente sì. Dopo basta pensare che una volta si parlava di 2K, adesso si parla di 4K, già stanno uscendo le 6K. Io ho lavorato sempre con 2K, è da poco che ho iniziato a lavorare con le 4K e ho visto effettivamente il risultato, ma più di così a me va bene. La morale qual è? Quella di trovare il compromesso e in base all'esigenza andare a scegliere la macchina più adatta. Come funziona? Qual è il suo ITER? Si va a eseguire il check della stampante come con l'FDM, si va a controllare i vari stati dei componenti della macchina e si va a scegliere la resina. Dopodiché si passa sullo slicer il nostro solido creato, si va a eseguire il posizionamento, detto anche nesting, si sceglie il materiale con la resina con cui stampare. Si va a salvare, si va a fare il nostro slicing, dopodiché questa macchina è sprovvista di wifi ma ci sono anche macchine con wifi, per cui io come do lo slicing posso mandare il file direttamente alla stampante e partire con la stampa, mentre qui ho una chiavetta che viene sempre data in allegato alla stampante nella quale inserisco il file, successivamente mi sposto nella macchina e vado a selezionarlo dal monitor. Per me è indifferente, però sapete che si può fare anche col wifi. Avvio, il piano di stampa si abbassa, perché in questo caso qua va in immersione, e inizia a lavorare con la stesura dei primi strati e successivo avanzamento e man mano si sposta in verticale. Quando finisce e ha completato il suo percorso, la stampa si alza e ritorna nella posizione iniziale. Attendo qualche minuto e dopodiché provvedo a rimuovere il pezzo dal piano di stampa e successivamente rispetto all'FDM necessita un po' stampa diverso, cioè si passa prima con un lavaggio e successivamente con una fotopolimerizzazione. In questo caso la macchina che io utilizzo, che non sono sponsorizzato, è un'unica macchina ma con due funzioni, ha sia la funzione di lavare e sia la funzione di fotopolimerizzare, senza aver l'obbligo di avere due macchine separate. Lascerò il link diretto in descrizione per il wash and cure. Vediamo in maniera un po' più dettagliata il passaggio. Allora, andiamo ad eseguire un lavaggio. La casa produttrice in questo caso dà in dotazione già un contenitore con un cestello metallico al suo interno. Vado a riempirlo con un solvente, in questo caso io utilizzo alcolisopropilico, ne ho provate di varie tipologie ma non sono mai rimasto soddisfatto quanto all'alcolisopropilico. E' aggressivo sì, però è molto sgrassante ed è anche molto duraturo, non richiede cambi frequenti. Prendo il mio pezzo che ho staccato dal piano di stampa, lo inserisco all'interno, chiudo il tutto perché mi dà anche un coperchio, vado davanti alla macchina, ho un pulsante, seleziono wash e seleziono i minuti. Veramente semplice. La macchina inizia a lavorare, cosa interessante è una ventola posta sotto il cestello e mi va a creare questo vortice. In maniera tale da detergere in maniera più profonda il pezzo a discapito degli ultrasuoni. Passati i famosi 5 minuti che io utilizzo, vado a tirar su il cestello, lascio scolare un po' il pezzo, prendo il mio pezzo, lo asciugo con l'aria compressa o utilizzo anche questa fantastica pistola che ho iniziato a utilizzarla da poco. E lo utilizzo sia per asciugare i pezzi ma anche quando sono nel banco e lavoro con la cera, mi trovo molto bene. Asciugato il pezzo provvedo alla fotopolimerizzazione finale, rimuovo il mio contenitore in plastica, prendo il mio disco e vado a posizionarlo sopra. Molto veloce. Posiziono da wash care, seleziono il bottone, metto la spia in cure, seleziono i minuti, solitamente anche questi 5-10 minuti e avvio. Cosa interessante è che ho un ampio spazio, questo qua viene offerto che è intorno ai 19 cm di diametro con un'altezza quasi di 25 cm. Fatto questo mi sono ottenuto il mio pezzo pulito e fotopolimerizzato. I tipi di resina che ci sono in commercio per le stampanti 3D a liquido ne esistono di varie tipologie e varie colorazioni. In questo caso per iniziare, e io comunque utilizza ancora adesso, quella che consiglio è della stessa casa produttrice, la Grey, ma nessuno mi vincola se voglio utilizzare altre tipologie di resine. In questo caso perché la macchina che andiamo a utilizzare è open source e posso andare a modificare e a provare nuove resine nel caso non fossi soddisfatto. Comunque troverete in descrizione il link diretto per poterla acquistare. Trattiamo ora l'ultima categoria che sono le SLS e le SLM, tradotto Selective Laser Sintering e Selective Laser Melting, che utilizzano come materiale le polveri. La differenza tra Laser Sintering e Laser Melting sostanzialmente è che Laser Sintering è inteso per la produzione di materiale plastico, mentre Laser Melting è utilizzato per materiale metallico. Vi spiego brevemente il suo funzionamento. La procedura avviene come l'SLA, tramite laser galvanometro. Il materiale di partenza è una sabbia plastica o metallica che a contatto con il laser si indurisce. In questo caso il piano di stampa si sposta verso il basso e man mano stratifica. Come vediamo nel disegno è composto da un serbatoio nel quale all'interno troveremo la polvere in base alla tipologia di lavorazione se è plastica o metallica. Abbiamo un rullo che servirà per andare a integrare nuova polvere verso il piano di stampa, il contenitore dove c'è il piano di stampa. E cos'è che succede? Praticamente il laser va verso lo specchio del galvanometro, va a eseguire questo percorso. Finito il nostro layer, il piano di stampa si abbasserà, il rullo provvederà a prendere nuova polvere e a trasportarla verso il nostro piano di stampa. E tornerà indietro e successivamente si eseguerà un'altra operazione fino al completamento del processo. Rispetto alle stampanti a filamenti a resina liquida bisogna attendere dalle 12 alle 24 ore indicativamente prima di pensare di rimuovere il pezzo. Perché questo? Per evitare che subisca distorsioni. Dopodiché si può procedere alla pulizia, alla rimozione, alla rifinitura e alla sua lucidatura. Altra cosa interessante di questa tipologia di lavorazione è che la polvere viene setacciata nuovamente e può essere riutilizzata per eseguire un'altra lavorazione. Siamo arrivati alla fine, volevo ringraziarvi e spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un like e nel caso non foste iscritti iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille, alla prossima!